Il tema valore che hanno scelto i ragazzi è la sfida. Questo sarà il tema che attraverserà anche tre delle nostre attività che sono il laboratorio di musica, di teatro e della street dance che confluiranno in una rappresentazione, insomma, in uno spettacolo. Questo per noi è stato anche lo stimolo che ci ha permesso di pensare a quello che l'artista potrà realizzare perché ai ragazzi l'idea del centro, l'impronta ha permesso di pensare alla sfida di trasformare l'impronta in un'orma e quindi in qualcosa che possa essere anche seguito da posteri e da altre persone che vengono dopo.